La forma del corpo umano La chimera di Thierry Mugler è la fusione perfetta tra la scultura etrusca ed il genio sartoriale, il punto d'incontro tra fantasia e concretezza. Inseguire una chimera vuol dire rincorrere qualcosa che non potrà mai diventare realtà, un'illusione, una vana fantasticheria. Ma l'arte rappresenta quella dimensione surreale che ti permette di essere chiunque, dove il limite non esiste, dove il sogno comanda. La chimera di Thierry Mugler 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti